ecco qua la nostra pallone con un nuovo giocattolo dopo averci trabbiato le mani ha capito che può mangiare solo questi aia bravo bravo bravissimo notate i grafi sulle mie mani ormai non mi faccio più prendere e non mi stanco mai di mordere e non mi stanco mai adesso vediamo se morde il telefono no non mi frega niente nuovo gioco è nuovo gioco vero saluto a tutti ok 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 Grazie a tutti